Si fresca come l'aria Lui aveva cominciato ad arrangiarla così con il pianoforte, tutta dolce e io arrivo a un certo punto e dico, però basta, qui bisogna fare del rock la sconvolgiamo tutta e ripartiamo dall'inizio Quando lui me la propose, inizialmente disse, ma guarda, è così bello però dopo, quando sono uscito dallo studio e continuavo a pensare a questa cosa dicevo, ma puoi vedere che ha ragione lui perché questo era il suo progetto, era il primo che tentava quella strada i discografi con cui ho potuto parlare mi dicevano sì, però state tentando una strada che con la lingua italiana non si riesce a fare e invece Vasco gli ha dimostrato proprio l'esatto contrario perché nella lingua italiana puoi fare quel che vuoi se la fai suonare come la fa suonare lui spira in piano per non farlo e cattoletti di sera e ti riscrivi al sole si chiara come un'altra non si chiara come l'aria no 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 Grazie a tutti.